Questa notte dei malviventi si sono introdotti all'interno del cinema all'aperto dell'Arena Frazzi a Cremona e hanno distrutto lo schermo lanciandovi contro bottiglie di birra e di vino. È il quarto atto vandalico nel giro di sei mesi, uno shock per il gestore del cinema all'aperto Giorgio Brugnoli che ha scoperto tutto questa mattina quando, come ogni giorno, è arrivato sul posto che d'inverno resta chiuso e senza sorveglianza. Il lettelone era già stato danneggiato una prima volta l'8 febbraio scorso, quando con tutta probabilità le stesse persone si erano introdotte nell'area accendendo anche un fuoco che ha rischiato di espandersela gradinata. Ora, dello schermo non resta praticamente più nulla e intanto ci si interroga sul continuo incremento di episodi di delinquenza in zona Po e più in generale in una città fino a poco tempo fa molto tranquilla.